Massimo Bitonci nei panni di un gladiatore al Colosseo o in quelli di Terminator. Al Be Back promette la didascalia tornerò. Nel 2017 la campagna elettorale si fa anche tramite i social media come Facebook, magari con una buona dose di ironia come nella pagina Maximus Be Good, Be Great, Bitonci, che sul web ha raggiunto quasi 2000 seguaci. Al centro c'è sempre lui, il candidato sindaco dipinto di volta in volta nei panni di un eroe o supereroe di notti film e serie televisive che si batte contro quelli che vengono definiti poltronai detestabili. Una galleria che comprende Maximus contro l'armata delle tenebre, l'esorcista o Indiana Jones e ancora Bitonci nei panni di uno dei ragazzi di Beverly Hills, di un bagnino di Baywatch o di un membro dell'A-Team. E poi ancora un Bitonci a cartoni animati nei panni di cani guerriero che ha detto in missione salvare Padua da amministrazioni di colore diverso. C'è anche una specie di telegiornale condotto da tali Bepi Abraxas e Pepe Kek, rispettivamente un gallo e una rana. Qui le cose, se vogliamo, si fanno un po' più serie perché al di là dell'evidente ironia del contesto si entra nel merito del dibattito politico. Il gallo e la rana denunciano quelle che vengono definite false notizie, diffuse dagli oscuri signori rettigiani per deformare la realtà a scapito dei cittadini di Padova.